Dopo la raffica di arresti lo scorso aprile a Bolzano, nell'operazione denominata Sabotage, altre due grosse pedine del clan rumeno che sfruttava la prostituzione nel capoluogo alto tesino sono finite in manette. Si tratta del braccio destro del capo della banda che aveva la sede operativa a Torino e dell'uomo di fiducia della boss. Il primo, soprannominato Victor, è stato arrestato su mandato di cattura internazionale in un casolare in Romania al termine di un'azione congiunta della polizia rumena e dei carabinieri della compagnia di Bolzano. Il suo compito era di incassare il denaro dalle prostitute e provvedere al rifornimento direttamente dalla Romania delle nuove leve che poi venivano fatte prostituire ai piani. Il secondo arresto è stato eseguito a Reggio Emilia, a finire in manette il luogotenente del boss, detto il turco, che aveva il compito di controllare le ragazze mentre erano in servizio. I carabinieri hanno accertato che nel corso dei mesi centinaia di migliaia di euro sono transitati sui conti delle clan che aveva monopolizzato la prostituzione a Bolzano.